Cos'è per te Chic? Chic per me è un'associazione di grandi professionisti con i quali confrontarci nel mondo della ristorazione. Come descrivi la tua cucina? È una cucina di ricerca, divertente e contemporanea. Se non avessi fatto il produttore, chi saresti? Se non avessi fatto il produttore sarei un'organizzatrice di eventi culturali, artistici e umanitari per portare la cultura e la bellezza nel mondo. Se non avessi fatto lo chef, chi saresti? Quindi sarei un designer tra architettura, design, moda, comunque estetica. Tre aggettivi per descrivere lo chef? Bello, raffinato e molto promettente. Tre aggettivi per descrivere l'azienda? Sostenibili, funzionali e tailor made. Come sarà, secondo te, la ristorazione nel prossimo decennio? La ristorazione nel prossimo decennio sarà semplice, curata, ma molto attenta a tutto quello che si andrà a portare nel piatto. Che consiglio daresti allo chef per usare al meglio il tuo prodotto? Allora non accontentarti, ma personalizza la tua cucina in base alle tue esigenze e fai in modo che sia in totale sicurezza. Cos'è per te la sostenibilità? La sostenibilità è avere cura dell'ambiente, utilizzare i materiali sostenibili. La sostenibilità è conoscenza, prima di tutto, è rispettare i prodotti, i loro valori nutrizionali e non che siano degli elementi puramente estetici, ma degli elementi funzionali a comunque la vita delle persone. In cosa è sostenibile la tua azienda? La mia azienda è sostenibile al 100% perché noi utilizziamo materiali di altissima qualità, che hanno una lunghissima durata e poi sono riciclabili al 95%. In cosa è sostenibile questo tuo piatto? Il piatto è sostenibile in quanto non è un piatto statico, fisso, ma evolve, cambia in funzione delle stagionalità, in funzione dei prodotti che abbiamo a disposizione. Quindi è un piatto che segue l'andamento della natura e che viene riproposto secondo un'estetica, secondo un gusto che varia con il variere delle stagioni. Ciao Valeria! Ciao! Ciao!